Non è stato sufficiente a Francesca Michelin per riprendersi da un intervento chirurgico da lei stessa definito invasivo lo stop ai concerti di agosto. La cantautrice bassanese ha con grande rammarico dovuto rinunciare oggi sui suoi canali social l'annullamento delle date restanti Moncalieri, Milano, Cuneo, Verona, la prima delle quali sarebbe stata proprio domani 9 settembre. In un lungo post con estrema trasparenza pur senza definire la malattia che le ha dato parecchio filo da torcere nell'ultimo anno Michelin ha spiegato di avere bisogno di più tempo per riprendersi in quanto il training vocale le sta provocando dolori indicibili all'addome. Proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico, ho cercato di conviverci continuando a fare la mia vita nonostante la presenza del dolore, l'ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi. Sia chiaro, aggiunto, ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più positivo possibile. Purtroppo in questi 12 mesi, scrive Michelin, nonostante diversi tentativi il problema non è rientrato, anzi ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo perché non avevo alternative, ma anche se a malincuore l'ho accettato proprio perché a quanto pare era questo l'unico percorso percorribile per poter stare meglio.